Io ho due figli, un ragazzo che ha 23 anni che sta andando all'università, Zahira. Zahira un giorno mi ha chiesto che voleva guidare una vendemmiatrice, voleva vendemmiare e ho detto vabbè. Sono Zahira, ciascuno ho 19 anni e lavoro nell'azienda agricola di mio papà. Faccio l'agricoltore e cototterzista. Sono sempre cresciuta in questa azienda, in questo ambito. Mi sono accorto di avere questa passione l'anno scorso, mentre facevamo manutenzione alle vendemmiatrici e da qui è nato tutto un nuovo percorso. Facevamo nel passato cereali, facevamo lavorazioni, arature semine e previature. Gli ultimi decenni qua ha voluto che schizzasse un po' il sistema del nostro vino, questo Prosecco Doc. In questo momento sto imparando a fare un po' di tutto. Zahira ha finito le scuole a giugno e mi ha fatto questa sorpresa di cercare di proseguire questa attività. Con mio padre ho un buon rapporto soprattutto nell'ambito lavorativo perché vengo trattata come un operaio e non come la figlia. Ovviamente mi aiuta molto e mi sta facendo crescere e imparare. Io lavoro con New Holland, da quando ero piccolo ho sempre lavorato con New Holland. New Holland secondo me è una macchina un po' più potenziale rispetto alla concorrenza. Essere macchina New Holland mi trovo molto bene. Devo dire che mi sento molto sicura. Una macchina di una nuova generazione. Lavoro con il consorzio agrario di Trevise Belluno, il concessionario New Holland. La mia attività si svolge da ormai 34 anni. Diamo ai nostri clienti un servizio a 360 gradi in tutti quelli che possono essere le loro esigenze. Conosco la famiglia Cescone da una quindicina d'anni circa. Zaira l'ho vista quasi nascere molto attenta e partecipe all'attività del papà. L'aiuto che diamo a Francesco è quello di tenere informato sulle nuove evoluzioni che New Holland propone. È un rapporto un po' familiare. La macchina l'hanno migliorata moltissimo. New Holland è molto sensibile al fatto che noi portiamo dei suggerimenti che poi sul campo sono le aspettative dei clienti. Il Prosecco è un prodotto di qualità ma per ottenere questo bisogna cadere e seguire un disciplinare molto rigido con dei prodotti sempre più evoluti che New Holland e i nostri partner ci forniscono. La vincicoltura è qualcosa che cresce negli anni. Chi pianta un vigneto lo pianta perché il vigneto deve durare 30 anni. Gioco a bocce anche a livello nazionale. Ho vinto molti campionati italiani però in questo momento sto pensando più al lavoro che allo sport. Spero davvero di avere un futuro in questa azienda. Grazie. 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 Grazie.